Vale 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 Esto ya me vengo aquí, esto está en directo Todo El mando de la consola Entonces lo primero que voy a hacer ahora Va a ser Abrir lo de Xbox Xbox Un momento Un momento Allora 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 Continuar Vale Pero Esto Allora 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 Solucionado Vale Sucede esto Entonces vamos a quitarlo y el carro Y ahora que rápido se solucionan los problemas de la red Vale 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 Y esta sucede en el tema de la red Más o menos esta su última última Pero porque va tan mal ahora por la noche Pues no está el móvil también Vamos a ver Fuera Esto si Mira que bien Son de esta manera de bien con el otro proyecto Transmitir A ver Continuar Vale Vale Ahora ya no hay problemas creo Vale Pues vamos a poner el forcehost 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 Sob fps Y fuera el uvsync Solucionado el tema Vale Entonces Ya lo meto aquí Me salen todos los fps Es que tengo Vale Todo está perfecto Después bueno Ya te salís todo aquí Terminemos la partida Tranquilo Ya no hay problemas ¿no? Vale Entonces vamos a hacer una partida principal es de la partida por equipos Y esta es partida Cuando te metes la lobby solo ya tienes tu una lobby Vale A uno Vale A ver si me dañan la lobby Vale Muchas gracias Entonces yo ahora me meto aquí La juego de pacientes Ping 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 hai che invitarli io mi invito a tutti per lo che si unis e conecta 2 e 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 vale 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 e 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 I'm playing up for 75 points. Sì, è stato giuando muy good. È stato giuando muy good. Me la ha pegado de spawn. Es que no se le ha de spawn. grazie No, 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 no. No, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero. Non è vero, non è vero, non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero.